In questo spirito repubblicano, in chiaro l'interimento a Ciampi che lei sicuramente ha pensato? Io penso che tutto l'intervento di Mario Draghi sia stato un intervento molto bello, un intervento straordinario da meritare. Il passaggio sullo spirito repubblicano, sul sovranismo che non funziona, non è nella solitudine che si è più sovrani, il passaggio sul debito pubblico. Ogni spreco che viene fatto è un torto alle generazioni successive. Quindi siamo molto contenti, un grandissimo discorso da parte del Presidente Draghi. Adesso lasciamo lavorare. La rinforza del fisco? No, ragazzi, è che? La rinforza del fisco è una cosa importante. Sì, importantissima, però vi prego. Adesso basta. L'ho già detto, il sovranismo è già fatto. Mi fate andare per pace adesso? Dai, io vi ho risposto. È una sua vittoria. No, è una vittoria dell'Italia.